Negli episodi precedenti Sono venuta a Brake Falls con mia moglie Alice Grazie di essere venuto per me Pensavo che qui sareste riuscito a scrivere Non voglio sentirne parlare! Maledizione Alice! Ora lei mi è scomparsa Alice! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata Avevo un buco di una settimana Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io Ma il Cottage era sparito Tesoro! Sono tornato! Sono qui amore! Com'è andata? Ma hai visto un tempaccio così? Preparati un caffè! Ti rimetterai in sesto! Ehi splendore! Sarà una lunga no Ma queste foto sono bellissime Allora sei tu che hai bisogno del caffè Lo preparo Salve youtubers e benvenuti per questa nuova gameplay di Alan Wake Realizzata da Bloody Rose 258 Come avete visto vi ho fatto gustare il prelude di questo secondo episodio E siamo nella casa di Alan In una bellissima casa di Alan Questo dovrebbe essere il suo studio E questo è l'ultimo romanzo scritto da Alan Prima che perdesse l'ispirazione Leggiamolo La storia della caduta e del successivo arresto improvviso è vera Ero sdraiato sulla neve e sotto i miei occhi Scorrevano le scene terribili che mi avevano portato lì Una replica del mio film dell'orrore privato Un ricordo del mio cadavere Solo alla mia veglia Pensando ancora per metafore La fan fatal se n'era andata Rimaneva solo il gusto aspro del bacio che mi aveva ucciso Era un addio tardivo Tredici anni dopo aver ottenuto la mia vendetta Ero stato infine raggiunto Era stato difficile sopportare il dolore per tutto quel tempo Il mio sangue colorò la neve di rosso Una poltiglia era capricciante Dissolse tutti gli antidolorifici E colò lentamente nella fognatura Mescolandosi e fondendosi con la bile della città Ora li vedevo Mia moglie e mio figlio Tesoro sono a casa Ok ragazzi Quello che avete sentito leggere Dovrebbe essere il protagonista di questo romanzo Che sarebbe Alex Casey Che è un detective E questo penso sia un rimando diretto a Max Payne Per chi lo conosce Che è anche lui un detective Protagonista di una storia non troppo rosa e fiori Ecco Sempre realizzato dallo stesso realizzatore di Alan Wake Ovvero Sam Lake Non so Magari più avanti un gameplay anche di quello ce lo facciamo Intanto sentiamoci con la radio Le intense precipitazioni nevose hanno fatto scattare lo stato di allerta per la tormenta invernale nell'area dei tre stati Si consiglia di restare in casa poiché molte strade sono già impraticabili Le squadre antineve probabilmente non riusciranno a tenere il passo del mal tempo E' il terzo giorno della tormenta E non sono previsti miglioramenti a breve Ok C'è un tempo di cacca Questa dovrebbe essere la stanza di Alice e Alan Hanno una casa personalmente bellissima Col bagno dentro la camera praticamente Ognuno ha il suo studio Là ci dovrebbe essere il soggiorno Sembra quasi che si siano appena trasferiti Visto che ci sono ancora cose imballate E là c'è la cucina Guardate che bella Mi piace tantissimo Accendiamo con la macchina Il caffè su Ottimo grazie Mi servirà se voglio finire entro domani Andiamo da Alice Ho finito le bozze per la copertina Sono sulla tua scrivania Dimmi che ne pensi Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco Qualche volta riesco anche a fare miracoli mio caro Ah davvero? Beh la scorsa notte ne eri convinto Lol Io sto pensando malissimo Però voi non prendete il mio esempio Andiamo a controllare queste bozze Sembrano ottime Sì finché Barry non ci mette le mani sopra A proposito dovrà passare sul mio cadavere L'ultima volta era l'ultima volta A proposito di Barry Ha chiamato Alan? Alan controlla la cassetta dei fusibili Lo sto facendo tesoro Tranquilla Presto ti prego Sono qui piccola Sto bene Sto bene Ma ora fa funzionare le luci Ti prego Ok accendiamo le luci per Alice Che comunque ha paura del buio Tesoro Ho preso la torcia Ok Ehi Tutto bene? Scusami È che Mi sono proprio spaventata Stai tranquilla Accenderemo le candele So che è una cosa stupida È che Specialmente quando non me l'aspetto Non so Mi paralizza Io ti amo Raccontami una storia Ok Quando ero bambino Avevo degli incubi terribili Ero terrorizzato a morte dal buio Quando la cosa peggiorò Mia madre mi diede un vecchio interruttore Lo chiamò clicker Il clicker, eh? Sì Quando avevo paura del buio Avrei potuto usarlo E si sarebbe acceso una luce magica Che si Sì, certo Eccolo qui Alan Forse aiuterà anche te Sì, bella storia Scrittore Te la sei inventata adesso No, no Davvero Ti amo Anche se dici bugie Grazie di tutto Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake Come si sente? Tutto ok La mia testa va bene Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia Mi avrebbe ricoverato per accertamenti Non potevo andarmene senza Alice Molto bene Non credo abbia una commozione Ma chiaramente Lei è in stato di shock Si riposi un paio di giorni Grazie Bene, signor Wake Qui abbiamo finito Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi Venga da me Vi lascio dove eravate rimasti Sara, lo sceriffo Breaker, la sta aspettando È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake Il dottor Nelson era un tipico medico di paese Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione Perché controllasse la mia ferita alla testa Mi spiace aver interrotto la sua battuta di pesca, dottore È una bellezza, vero? Ne ho presi di più grandi Se crede a un vecchio pescatore come me Ma questo non è affatto male Dunque è un persico E per farlo abboccare ci vuole un'esca Per il salmone o la trota, d'altra parte, è meglio usare la mosca Le piace pescare, signor Wake? Beh, non è importante, dopo tutto Ma è un'attività molto rilassante In questo periodo dell'anno non riesco a stare lontano dall'acqua Per me è il paradiso La prendo in parola, dottore Ok, sembra che abbia finito Controlliamo qui Siamo tornati ai giorni nostri Abbiamo visto un piccolo spezzone di due anni prima Con Alan ed Aelis E si vede che Alan tiene molto a sua moglie In maniera così morbosa Che carico Lo sceriffo la sta aspettando nel suo ufficio Che carino mentre canticchiava Ok, andiamo Dritti nella nostra meta Che qua mi sa che non c'è assolutamente nulla E andiamo Oh La tizia della luce Della tavola calda Grazie di aver provato le luci, signora Weaver Sembra che sia tutto a posto Non posso concedermi l'uso della compiacenza, agente Grant Presto bisognerà cambiare le lampadine Non si possono cambiare al buio Me ne occuperò certamente, signora Weaver Buona giornata Molto bene Ripasserò più tardi a ricordarglielo Per precauzione Signor Wake Lo sceriffo la tende nel suo ufficio in fondo al corridoio Ok, grazie Quella era Cinzia Weaver Credo che si possa considerare la pazza del villaggio Era l'editrice di un quotidiano locale Ma adesso si occupa di altre faccende Sarebbe perfetta per il posto da cui vengo Come può vedere è vagamente ossessionata dallo stato delle lampadine Dell'intera città Si rifiuta di calpestare le ombre e cose così Ai suoi tempi scriveva stranezze di tutti i tipi sul suo giornale Bright Falls ha una storia pittoresca Come tutte le piccole città del resto Cynthia Weaver Non calpesta mai le ombre Come una pazza E si controlla tutte le luci delle città Mi sa che questa Cynthia Weaver Sappia qualcosa in più Rispetto a quello che sanno tutti gli altri Intanto qua c'è un termos di caffè Che ora prenderemo Andiamo qui Sì, qui Mulligan Sono con Thornton Alla stazione di servizio di Stucky Di lui nessuna traccia Passo Aspetta, 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 aspetta Sì, qui Thornton Abbiamo trovato il carro per la sfilata È qui È una buona notizia, giusto? Stucky avrebbe dovuto guidarlo oggi alle prove Passo Ridammelo Qui Mulligan Sembra che qualcuno abbia combinato un casino nel garage Passo Ok, ricevuto Continuate a cercare Stucky Passo e chiudo Ok Stanno alla stazione di servizio Qua c'è un termos E là mi sa che c'è una pagina a terra Sì Leggiamola Alice guardò attraverso l'obiettivo Pronta a scattare la foto Coldron Lake era incantevole Qualcosa catturò il suo sguardo Una figura nell'ombra dietro il cottage Una donna snella in un abito nero Guardò di nuovo Non c'era nessuno Solo dei cespugli la cui forma ricordava vagamente una persona Scosse la testa E rise Mi sa che questo è stato il momento in cui si è accorta Che c'era Pellatizia Vestita all'otto Bene Qui È chiusa Lo sceriffo Breaker L'attende in fondo al corridoio Né suo ufficio L'abbiamo capito Volevo solamente esplorare Ok Dovrebbe essere quello l'ufficio Qua Scomparsi Richard Bog Bruce Dansky E Jacob Biller Non sono tornati da un campeggio Se li avete visti O sapete dove sono Chiamate il 555 9932 Grazie Penso che siano i programmatori Come in tutti i giochi che si rispettano Qualche volta i programmatori si mettono in mezzo Giustamente Entriamo Entri signor Wake Il suo telefono è sulla scrivania È raggio di batteria Ora è carico Avete già iniziato a cercare mia moglie Ci stiamo lavorando Posso sapere cos'è successo Non ne sono certo Non mi ricordo Stavamo litigando e Io ho lasciato il cottage Il cottage a Cauldron Lake Com'è finito nell'area di servizio di Stucky? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte Ma mi avrebbe rinchiuso Mi scusi Devo rispondere Pronto? Alan Ti prego aiutami Alice Basta parlare alle autorità Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva Chi parla? Vai sul retro C'è un buco nella recensione sulla sinistra Cerca nell'auto abbandonata Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio Liberati della polizia e vieni al parco nazionale di Elderwood C'è un posto chiamato Lover's Pink A mezzanotte Niente sciutezze Ti teniamo d'occhio Oh wow Conviene che prima torniamo dallo sceriffo Ho bisogno di una boccata d'aria Posso uscire sul retro magari? La capisco signor Wake Può arrivarci oltrepassando le celle La gente Grant le farà strada Mi scusi È che non è una situazione facile Faccia con calma signor Wake Capisco Può riferirmi il contenuto della telefonata? È personale Ma stiamo cercando sua moglie E mi serve la sua collaborazione per poterla aiutare Mi dia un momento Ho bisogno di un po' d'aria Ok Può trovarmi qui Ne riparleremo quando se la sente Ok Adesso possiamo andare Ovviamente Alan cerca di fare Il vago Signor Wake posso esserle d'aiuto? Ho bisogno d'aria Lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro Certo signor Wake Ci può arrivare dal corridoio delle celle Soltanto non faccia caso a Walter È un nostro abitué Lol Passi quella porta e vado in fondo al corridoio signor Wake E arriverà sul retro L'ho capito tizia Grazie Parking lot Questa non si apre una porta No Ehi 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 capo Ti spiace accendere le luci Le luci puoi accenderle? Gli agenti non capiscono Mi ignorano E ho bisogno di luce qua dentro Lol Vediamo se dice altro Oh tra l'altro qui c'è una pagina Vediamo un po' Descrivere la presenza oscura come intelligente Significava attribuire qualità umane a qualcosa che Nonostante la maschera Di umano non aveva nulla In ogni caso Trovo l'unico posto abbastanza buio nella tavola calda Un filo di luce filtrava nel corridoio Ma accettò il dolore per quanto orribile Lo scrittore avrebbe presto sistemato le cose Sarebbe arrivato dove lei aveva ancora potere Ok Ehi Ehi tu Vuoi aiutarmi? Ehi Ti prego amico aiutami Non ce la faccio più Il buio mi sta facendo impazzire Povero tizio aiutiamolo dai Mi fa tenerezza Dici altro? Sembra di no Oddio che celle schifosissime Pietose Per favore accendete le luci Ehi Accendete le luci Mi prego Ok Aiutiamolo dai Poverino Grazie amico grazie Poi Poi Ehi 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 Ma, credimi, ero sobrio in quel momento Non so perché, ma se rimango sempre, come dire, ammaliata da questi tizi Che dicono stronzate, però andiamo avanti La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa L'uomo al telefono aveva detto di attraversare la recinzione a sinistra Ok, che dovrebbe essere quella Ma lì c'è un thermos e una radio, quindi sentiamo un po' Raccogliamo il thermos e accendiamo la radio Beh, amici, è stata un'altra lunga notte ed è ora che stacchi per un po' Dio solo sa quanto abbia bisogno di dormire Un'ultima cosa prima di andare Questa è stata una notataccia per lo sceriffo Qualche finestra è stata rotta e si sono persino sentiti degli spari su Main Street Gli agenti Mulligan e Thornton hanno dovuto occuparsi di due giovanotti ubriachi Che festeggiavano il completamento del loro carro per la festa del cervo Beh, gente, succede tutti gli anni So che non state più nella pelle e che il gran giorno si avvicina Ma abbiate pazienza e risparmiate gli spari per la gara di tiro, va bene? Non c'è ragione di affrettarsi Ok Andiamo dietro la recinzione Che dovrebbe essere questa Difatti ci dà un osserva Ok Dobbiamo raggiungere l'auto abbandonata Da qui mi sa che non si può andare Ma da qua sopra Penso di sì Ok, ottimo Calciamo qui Questi dati di regno Ok Là c'è una pagina Sopra La roccia Vediamo un po' Il rapitore sparò un ultimo colpo E l'ombra svanì nell'oscurità da cui era uscita Vedi? Niente di speciale, Wake L'idea che Alice fosse nelle sue mani era rivoltante Eravamo sul belvedere in legno di Lover's Peak La cascata e le montagne alle nostre spalle E più in alto Le luci rosse dell'antenna radio Trattenni l'impulso di saltargli attosso E mi sforzai di parlare Diamoci un taglio Dov'è mia moglie? Wow Sappiamo che tutte queste cose si avvereranno La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore Quel tipo faceva sul serio Barry? Al! Al! Grazie a Dio! Dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice Mi sono spaventato Ho preso un aereo ieri Sono qui a Bright Falls Barry, ascoltami Sono dallo sceriffo Vieni a prendermi Ora non posso parlare Ah, ma che diavolo sta? Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo E raggiungere il parco nazionale di Elderwood Per incontrare il rapitore di Alice Ok Andiamo a salvare Alice adesso Dobbiamo tornare dallo sceriffo Quindi dobbiamo rientrare, suppongo Lì ancora la radio sta suonando A modo suo, tranquillamente Vediamo il tizio che dice qua Ciao tizio Sta dormendo Lo scrittore È la luce che rivela il mondo della sua storia nell'oscurità Che lo forgia dal nulla Così come uno scultore estrae una statua da un blocco di granito Se mi fermo Il mondo che creo svanirà L'oscurità se lo riprenderà È un lungo e difficile viaggio nel buio C'è la vita di Alice in gioco Ma non devo pensarci O impazzisco Il terrore giunge ai limiti della percezione Devo continuare Qui tutto è possibile Scriverò la storia La salverò Ok ragazzi Io vi saluto già da qui Perché so già che ci sarà una cutscene In cui voglio fermare il filmato E ve la lascio godere tranquillamente Quindi ci vediamo alla prossima gameplay Ricordatevi di iscrivervi al canale per seguire le novità Di lasciarmi un commento E se mi volete aiutare anche mi piace Ciao ciao Tore e Odin non hanno mai fatto del male a nessuno Quando abitavano nella fattoria Purtroppo Possiamo soltanto ritardare L'incedere della loro demenza Si sente un po' meglio, signor Wake Vorrei andarmene Sono libero di andare Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere Eviterei il motel Il majestico e rinomato per gli scarafaggi I cottage a Elderwood sono molto carini Direi che è perfetto Sono il dottore Emil Hartman Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Coldron Lake Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni Ha organizzato qualcosa con lei? Beh, l'ho invitata qui La mia clinica è un luogo in cui... Ehi! Stia, calma! Ehi, fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me! Voi, zatticoni, non la passerete liscia Una volta sguinzagliati i miei avvocati! Non c'è problema, Sara Sto bene Non voglio sporgere denuncia Signor Wake La mia offerta è ancora valida Tirami fuori di qui Che diavolo è successo, Al? Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi Pensavo ti stessero sbattendo dentro Grazie a tutti!